Stai ascoltando un podcast Rizzoli Education Vite per l'arte, protagonisti dell'arte del Novecento tra Europa e Stati Uniti, di Valerio Terraroli e Arimatis, la gioia di vivere e la potenza del colore Arimatis è stato uno dei grandi maestri dell'arte moderna e la sua vita in realtà lo porta a essere un ponte tra la cultura dell'età simbolista cioè della fine dell'Ottocento e in primo Novecento una vita molto lunga, una vita molto ricca che lo porta a vivere anche oltre la Seconda Guerra Mondiale i suoi inizi sono gli inizi diciamo come tutti i pittori dell'Ottocento nella scuola di un grande maestro che fu Gustave Moreau che è stato uno dei pittori simbolo appunto del tardo Ottocento francese e della cultura simbolista un maestro dal quale acquisisce una passione straordinaria per l'uso del colore e Mattis sarà per sempre e per tutta la sua carriera il maestro del colore a lui dobbiamo fra l'altro l'avvio di quella che è considerata nei manuali e nella storia dell'arte la prima e vera avanguardia storica cioè l'avanguardia dei Faux in realtà non fu un movimento organizzato questi artisti si enuclearono diciamo individualmente intorno alla figura di Mattis che era lievemente più vecchio degli altri giovani pittori che giocarono le loro carte proprio rinnovando completamente il linguaggio artistico della pittura nella libertà del colore andare al di là del disegno, della tradizione accademica ma certo c'erano già stati gli impressionisti, i post impressionisti tutto quello che sappiamo ma quel loro atto quella loro novità quella loro forza espressiva da qui poi nascerà l'espressionismo è proprio dovuta all'idea che il colore sia l'elemento di comunicazione il medium della comunicazione di una visione del mondo, di concetti nuovi tanto è vero che i critici contemporanei Voxel in particolare che scrisse appunto dei giorni dell'esposizione al Salone d'Autunno in cui questi giovani artisti presentarono loro opere insieme a Henri Matisse disse che entrare in quella sala era vedere e c'era al centro una scultura di tipo accademico era vedere Donatello la scultura accademica circondata dalle belve cioè FAUV FAUV divenne diciamo una specie di marchio di fabbrica durò pochissimo perché in realtà i FAUV non si organizzarono mai e già dopo un anno la loro parabola era terminata ma lasciarono questo germe della novità dei linguaggi artistici che è il nutrimento delle avanguardie che cosa aveva esposto Henri Matisse in quell'occasione? un dipinto, un grande dipinto di grande formato intitolato La joie de vivre o La bonheur de vivre cioè La gioia di vivere che è un'opera che oggi si trova alla Bars Collection di Philadelphia che è uno delle gemme di questa collezione che è un dipinto che ha come tema un tema antico un tema come dire di tradizione mitologica che è l'età dell'oro e l'età dell'oro che cos'era per Matisse? era un mondo in cui un'umanità felice inconsapevole della morte, della malattia, del dolore viveva in perfetta sintonia o vivrà in perfetta sintonia con la natura e allora ecco che il quadro è un'esplosione di colori mediterranei i pini marittimi, il fondo col mare la luce accecante del sole in una specie di visione paradisiaca in cui uomini e donne si amano, si abbracciano, danzano in una totale felicità e serenità i FAUV sono, diciamo, tra le avanguardie forse quelli che hanno avuto la visione più positiva dell'esistenza e questa loro carica emotiva questa carica vitale che attraverso il colore, le forme fluide passa attraverso, diciamo, le esperienze delle altre avanguardie storiche La Bonheur de Vivre in realtà era un punto di arrivo di un percorso che Matisse aveva fatto come dicevo, aveva studiato da Gustave Moreau aveva imparato a disegnare naturalmente e a dipingere come dalla tradizione ma il suo contatto, diciamo, forse più innovativo è stato con i maestri del cosiddetto post-impressionismo i cosiddetti pointiste, cioè quei pittori che dipingevano andando oltre la tecnica degli impressionisti facendo piccole tasche, piccole tacche di colore colori puri in modo da non mescolarli sulla tavolozza e facendo quindi, creando un effetto sulla tela di estrema brillantezza e ovviamente dinamicità ovvero, invece che costruire un arancione mescolando un rosso e un giallo sulla tavolozza che comunque dava una tonalità meno brillante accostavano un punto di rosso assoluto un punto di giallo assoluto e l'occhio dello spettatore li fonde creando questo effetto di una luminosità aranciata che si diffonde del dipinto questa tecnica puntinista affascina il giovane Matisse il quale la applica in una serie di opere che precedono la gioia di vivere e che nella gioia di vivere supera l'idea del trattino di colore il pennello diventa fluido le sue pennellate sono, come dire, delle morbide nuvole di colore al limite le figure, gli alberi, i paesaggi sono delineati da linee, ma non di disegno da pennellate di colore a loro volta arancione su rosso, verde su giallo per cui l'insieme del dipinto crea una, come dire, affascinante avvolgimento dello spettatore dove tutto è dinamico non c'è una costruzione in profondità con una linea prospettica ormai superata da tempo non ci sono neanche le ombre però è veramente, diciamo, un avvolgimento in una sinfonia musicale e proprio sul tema della musica a cui Matisse era molto legato appartengono due capolavori straordinari di qualche anno dopo, intorno al 1909 un personaggio di rilievo nell'ambito collezionistico Sergei Shukin un commerciante russo miliardario che passava qualche settimana diciamo all'anno a Parigi per divertirsi naturalmente era la capitale assoluta del divertimento nel mondo allora ma era anche la capitale dell'arte e come ogni buon borghese voleva adottarsi di una collezione d'arte da mostrare ai suoi concittadini abitava in un grandissimo palazzo moscovita e in questo palazzo Shukin decide proprio a cavallo di quegli anni in realtà aveva iniziato la collezione alla fine degli anni 90 dell'Ottocento comprando impressionisti Renoir, Monet, eccetera eccetera poi anche comincia a comprare Matisse qualche Picasso del primo periodo ecco allora decide che la sua casa che è una casa, è un palazzo viene come dire riempita ed allestita quasi con un concetto diciamo da museo sì da museo una galleria in cui ospitare non solo le persone che potevano andare ospiti a casa sua ma anche aprirlo ai giovani artisti che studiavano all'Accademia di Mosca ai visitatori lui faceva diciamo il padrone di casa e faceva l'accompagnatore di questo palazzo museo bene proprio per questa idea Schuchin decide nel 1909 di scrivere a Matisse che conosceva comunque aveva rapporti molto stretti perché realizzasse due grandi tele per lo scalone lo scalone di accesso a questo primo piano dove erano esposti i quadri della sua collezione Matisse lì come dire sviluppa questo tema che nella gioia di vivere è il tema centrale sullo sfondo ma è lo tema centrale che è una danza un ballo una sorta di girotondo felice inconsapevole costituito da cinque donne cinque figure femminili cinque nudi femminili non più descritti in modo realistico naturalmente ma come spiriti della natura che danzano felici in un luogo senza tempo in un'eternità che è il futuro che è il passato che è quell'età dell'oro che dalla tradizione classica tutti ospichiamo di vivere e quella danza era il quadro che riceveva gli ospiti e che preparava gli ospiti a vedere il grande museo di arte moderna a fianco come diciamo in contrapposto in contraltare cinque nudi maschili suonano degli strumenti musicali in una situazione invece di immobilità movimento contrapposto a statica calore contrapposto a freddo maschile contrapposto a femminile di termini essenziali della vita e dell'arte Matisse proseguirà su questa strada diventerà diciamo anzi il grande compagno di strada del giovane Picasso lo accompagnerà a vedere i musei a conoscere il Louvre a studiare perché Picasso aveva un talento gigantesco ma non era uno studioso Matisse è un uomo molto colto e poi nel corso della sua vita nel corso degli anni 20 dopo la prima guerra mondiale e così via continuerà a portare avanti il discorso del puro colore con una potenza e una forza espressiva che addirittura influenzerà i pop artisti come Andy Warhol che imiterà con grandi fiori cosiddetti flowers imiterà appunto i grandi fiori di Matisse che chiudono la sua carriera seguici su rizzolieducation.it per ascoltare le prossime puntate di Vite per l'arte protagonisti dell'arte del novecento tra Europa e Stati Uniti di Valerio Terraroli hai ascoltato un podcast Rizzoli Education